La Procura di Brescia ha chiuso le indagini e ha chiesto l'archiviazione su 5 decessi di neonati nel reparto di terapia intensiva neonatale degli spedali civili di Brescia, avvenuti tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Si è accertato con l'esecuzione degli esami autoptici e con l'approfondita analisi della documentazione sanitaria che i neonati prematuri in gravi condizioni di salute sono deceduti per cause naturali indipendenti tra loro, potendosi escludere infezioni a trasmissione nosocomiale o responsabilità colposa da parte dei sanitari. Questo quanto ha stabilito la Procura di Brescia che ha chiesto al GIP l'archiviazione. Non ci sarebbe insomma nessuna causa comune per i decessi di neonati prematuri che si sono verificati tra dicembre e gennaio all'ospedale civile. Ben quattro i bambini morti tra il 30 dicembre e i primi giorni di gennaio, mentre un quinto bimbo era morto nell'ottobre precedente. Tutti i piccoli erano nel reparto di terapia intensiva e questo aveva fornito più di un motivo per ipotizzare che vi fosse l'origine delle morti, un focolaio epidemico comunque onnesso da ricondurre al reparto e alla responsabilità di chi lo gestisce. Niente di tutto questo è emerso dall'inchiesta nata otto mesi fa contro i gnoti per omicidio colposo plurimo. Così si arriva all'archiviazione della PM Corinne Carrara. Lo spettro che aveva gettato infatti era quello del 2018 quando l'infezione serrazia Marcenses colpì 10 piccoli di cui uno morì proprio a causa del batterio. L'inchiesta relativa a quella vicenda è ancora aperta, mentre in questo caso le autopsie e gli accertamenti eseguiti mostrano che non si trattò di un'infezione. Infatti, secondo gli inquirenti, la contestualità temporale deve ritenersi un'infausta coincidenza, non così improbabile in un reparto come quello in esame, a causa della drammaticità della situazione di molti nati prematuri. I neonati sarebbero morti per complicanze legate a quadri clinici differenti e a causa della gracilità della loro condizione. Grazie.